Il comune di Oristano ha intitolato la sala giunta al pittore e ceramista Antonio Corriga. Nel corso della cerimonia è stata presentata dai familiari l'associazione che fa riferimento all'artista oristanese. Vuole conservarne il ricordo prima di tutto. L'obiettivo primario è quello di creare un archivio completo delle sue opere e quindi un catalogo generale. Sarà un'opera molto complessa perché mio padre ha lavorato per più di 70 anni e ha spaziato la sua arte dalla pittura alla ceramica all'incisione. Vogliamo raccogliere quindi anche testimonianze della sua vita, fotografie, lettere. Avremo anche un'attività autentica delle sue opere per cercare di frenare il dilagante mercato del falso che purtroppo è presente qui in Sardegna. Grazie. 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 Grazie.